Cari ridotta del 25% per le utenze non domestiche. A Sapri arriva un aiuto per i commercianti e nello specifico per quelli che hanno subito le chiusure legate all'emergenza Covid. A deciderlo è stato il Consiglio Comunale riunitosi questa mattina. All'ordine del giorno anche l'approvazione di questa agevolazione sulla tassa dei rifiuti. Una decisione che è stata accolta con favore anche dal gruppo di opposizione. D'altra parte già nella precedente seduta consigliare nei mesi scorsi Sapri Democratica aveva invocato misure di sostegno e riduzione delle tasse per i commercianti in crisi. E proprio sulla paternità di questa decisione in Consiglio Comunale si è svolto un piccolo botta in risposta. La consigliera di minoranza Pamela Marino infatti ha ringraziato il sindaco Gentile per aver accolto il suggerimento di Sapri Democratica, ma il primo cittadino ha replicato che si è trattato di una proposta autonoma dell'amministrazione in un quadro di attenzione generale nei riguardi del commercio. Lo scontro sul settore tra maggioranza e opposizione del resto va avanti da tempo. Già a metà dicembre in un'altra seduta consigliare, Sapri Democratica aveva accusato l'amministrazione di destinare solo 1000 euro al commercio. Un attacco rispedito al mittente dal sindaco che aveva ribadito le azioni svolte come la concessione di spazi pubblici senza il pagamento della TOSAP e l'accesso al credito agevolato. Ma strasci che in malumori sia pure sotterranei c'erano stati in merito a questa vicenda. Ora la decisione di un intervento sulla Tari, secondo la minoranza, ha frutto proprio di questo lungo battibecco sulla questione. Il 25% di riduzione, ha detto la Marino, per delle attività che sono state chiuse per mesi e non hanno contribuito a formare spazzatura è un aiuto davvero irrisorio. È un contentino per una categoria che è rimasta in tutto questo tempo in silenzio, fiduciosa nell'intervento dell'amministrazione, arrivato però in ritardo solo il 28 dicembre, quando magari alcuni hanno già corrisposto all'intero importo. Sulla stessa linea anche il capogruppo del medico. Questa proposta di riduzione, ha detto, l'ufficio Tributi l'aveva trasmessa a maggio 2020. Perché allora, ridursi all'ultimo, si sono mossi a pietà per una categoria approvata. C'erano le possibilità per fare molto di più. Invece l'amministrazione ha scelto di non mettere un euro di fondi di bilancio comunale e di usare un trasferimento dello Stato per l'emergenza Covid. Il sindaco Antonio Gentile ha invece ribadito che questa decisione è stata un ulteriore tassello per dimostrare vicinanza ai commercianti sapresi.